Buongiorno ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo videoblog questa volta, perché le recensioni mi mando in un altro momento, quindi niente, oggi video recensioni lo rimando a stasera o a domattina. Nel frattempo mi ho messo stamattina questa nuova maglia, questa nuova l'avete appunto mai vista, ma l'avevo fatta vedere nel video appunto a questi, che non so se vi linko nell'info box o nelle schede di informazioni, quindi nulla. Comunque niente ragazze, questo appunto vuole essere un videoblog, non vi porto da nessuna parte però è un videoblog da seduta, perché magari poi mi sposto, non lo so, vediamo, magari mi sposto per la casa, dove vi faccio vedere le varie attività mie. Ogni tanto penso che c'è però una Instagram Stories, ma vediamo. E niente, allora ragazze, sono le 11 e 2 minuti, quindi siamo a posto. Tra poco anzi dovrebbe già essere cominciato a forum, ma non lo metto perché come voi avete già capito, se metto la televisione non registro, se registro appunto non guardo la tele, quindi niente ragazze. Allora io adesso sarei nell'intento di fare il mio letto, quindi nel frattempo vi porto in camera mia e facciamo il letto e poi ovviamente vi metto a fare altre cose, che ancora non so bene cose, ma ci pensano mentre devo registrare con voi, ok? Sì, niente. Stamattina ho già fatto colazione e tutto il resto, mi sono truccata, mi sono un po' anche, scusate se lo dico un po' in modo, come devo dire, in cerco trash, mi sono avanti le scelle, volate, scusate alla veloce, mi ho messo sta maglia, mi ho messo anche questa gonna, che non so cosa si possa vedere meglio, mi ho messo questa gonna qua, spero che vi piaccia, vabbè quasi solo per stare in casa, ma niente, aspettate. Allora, ed ecco, vi stavo dicendo dunque che, allora, abbiamo messo sta maglia, spero che vi piaccia, potete, anche voi, dietro non c'è niente, qua invece c'è questo bel disegnino, non so cosa sia questo disegno, però mi piace tutto, l'ho voluta prendere, ovviamente non l'ho solo scelto io, ma è scelta anche di mia nonna, ma vabbè, questa è la gonna che ho voluto mettere io, che mi piace un botto, vabbè, questi sono le scarpe da casa, ma non ci fate caso, sì, sono le scarpe da casa, appunto. Niente, io adesso mi metto, in cingo a fare altre cose, non voglio fare video spesa, ma non ne faccio perché non ce lo voglio, ragazze. Sicuramente io non mi dirà, facciamo video spesa? No. Voi direte, dai, fallo. No, ragazze, non me la sento, non voglio essere costretta. Anche voi mi dite tante volte, non sei costretta a fare video, non ti piace fare, appunto, oggi niente, video spesa, ma più che altro farò altri tipi di video. Chiacchericcio, questo è un altro videoblog, ma chiacchericcio. Non ha senso, lo so, però a me piace fare questi video, chiacchericcio. Mi teno compagnia a me, ma soprattutto, anche e soprattutto a chi li guarda. Spero tutta la vita che sia così, poi non lo so. E niente, che dire, doveva venire uno per farci, come dice, come dire, per piassarci una doccia, box doccia, però ancora non ne so niente perché non ha ne chiamato, ne dato informazioni, cioè, doveva venire, ma non è ancora venuto un signore, e quindi non lo so. Tra l'altro qua c'è un manico perché ci serve per aclacarci alla doccia, non sia mai che se ci vede uno scivolare di scivolare, o almeno ci attacchiamo e la doccia non si rompe e non ci facciamo male noi, soprattutto. Sì, perché se ci facciamo male noi, la conseguenza è grave, e quindi non si sa mai. Niente, oddio, sto un po' ballando, non so se è così. La telecamera la vedo un po' stortina, boh. Vabbè. Cosa volevo dire? Niente, adesso io vado e ci vediamo dopo, dai. Se riesco a farci il letto e poi, perché no, farò altre cose. Casomai mi tengo aggiornata in un altro momento. A dopo. Cosa volevo dire? Cosa volevo dire? Allora, praticamente l'altro. mio outfit era questo, anzi è questo, quello di stamattina. Oddio, ma si vede un po' curioso questo, questo, questa clip. Vabbè, niente. Comunque, questo è il mio outfit di stamattina. E niente, comunque, questa è la gonne, vabbè, ho messo un po' alla cavola, ma non è che andavo di fretta, non sapevo bene com'è rifilarmela, quindi niente. Vabbè, ve l'ho messa così, ve l'ho messa così, ve l'ho messa così, a lacchiazza, ma vabbè. Niente, comunque taglierò questo pezzo, dove, vabbè, se riesco a tagliarlo, sono ciccia. Al massimo l'ho messa così, ve l'ho messa così, se no non saprei proprio come fare. E potevo anche evitare di dirlo, ma ormai l'ho detto. Cerco di non dire più certe parole che YouTube mi banna, perché, è vero, non va bene dire paracce. Ne ho detto anche troppe, per i gusti, in questi anni su YouTube, ma vabbè. E nulla. Comunque, questo sono le mie scarpettine da casa, che uso ogni tanto anche per andare al mare, cosa che oggi non sono neanche andata, ma vabbè. Vedete, queste sono le mie scarpe, sì. Questo è il mio trucco di oggi. Nulla di che, semplice. Il rossetto è quello di Wicom, adesso vi faccio vedere, aspettate un attimo. Allora, come rossetto, sto utilizzando questo della Wicom. Wicom Sublime Matte 604. Vedete? Sì. E nulla. Questo è il rossetto, è molto cremoso. Aspettate un secondo. Mi piace davvero tanto. Si sposa bene col colore del mio incarnato, di pelle, bellissimo. Molto molto bello, mi piace da morire. E tra l'altro, a me sono straordinamorata di questo colore, che ho vinto da Miss Lilla 001, ovvero Fabiana. In caso da Fabiana, non mi ricordo del canale. Comunque, ve lo linko, casomai, nell'info box delle informazioni del mio canale. E niente, del video che farò oggi, che sto registrando oggi. Nulla. Poi, per quanto riguarda la giornata, oggi è così la giornata. Bellissima, mi piace. Vento, non ce n'è quasi per niente. Per non dire che ce n'è un pochettino. Non è fastidioso. Si sta benino oggi, abbastanza bene, dai. Non benino, benissimo. Bene, ragazze, allora, vabbè, qua c'è... Ho sistemato un pochino, alla bella e miglia, alla buona, diciamo. Qua c'è un po' il letto come l'ho fatto io, ovvero così. L'ho fatto un po' come si dice qua in Sardegna, a casotto, ma... Diciamo che non avevo tanta voglia di farlo, ma almeno non è ridicolo. Vabbè, facciamo perdere il mio ridicolismo, ma vabbè. Quella che vedete lì, vedete? E la mia crema di protezione solare, che ancora non sono riuscita a utilizzare, vabbè. Chissà quando sarà possibile, allora, niente. Si sta surscaldando la mia camma, vabbè. Questa è la mia tutta la postazione del trucco, ovvero, vabbè, qua vedete cose della doccia, perché, come vi ho appena accennato nel videoclip di prima, devi una signora giustarci la doccia, ovvero, a mettercela nuova, perché si è rotta. Vabbè, perché mia non è caduta e altre cose varie. È caduta, ma adesso, grazie a Dio, sta bene, però l'è andata liscia come l'oglio, perché poteva farsi molto male. Niente, a posto. Allora, qua, solito mi trucco io, ma con il telefonino non va benissimo, perché col telefono non si vede granché, non si vede proprio una mazza, mentre, vedete, se apro la finestra, come si vede bene, oh, ecco qua, si vede stra bene, se invece accendo la luce che è gialla, perché se adesso l'accendo, vedete che è gialla, è abbastanza giallognola. Ebbene, sì, questa è un bianco, ma un bianco palido, non ve lo so manco a dire. Con questo vi sto accecando, ma è la verità. C'è una luce in me, insomma, un po', non è bellissima, ma cerco di stare più con queste luci, perché altrimenti non si vedrebbe una mazza, ma vabbè. Adesso rimetto a posto il mio rossettino, perché altrimenti è tutto un casino. Allora, come terra, dove l'ho messa? Sembra se la trovo, allora, aspetta un secondo. Come terra ho messo questa, se non mi cade, aiuto, stavo morendo, se non mi stavo per cadere la terra. Questa di Rimmel, numero numero 604, no, scusate, cosa dico, 004 Sunstay Matte Shimmer, questa. Molto buona, sì, mi piace tanto, aia, mi sono dato un calcio dietro agli stinghi, che dolore. E nulla, vediamo un chiore solo, intanto, aspettate un secondo che vi dico chiore solo. Secondo, ecco qua, intanto vi dico chiore sono, sono le, che c'è un messaggio, sì, sono le 11.21, c'è un messaggio da me. Ok, scusate che rispondo, ok, perfetto. Dovevo rispondere al report, per forza, ragazze, era una nemica, un vero, un'altra famiglia su Facebook, che già conoscete, la grande Steffi, e nulla, appunto, se sto registrando in questa camera, è perché si vede benissimo, non so come mai, ma si vede bene, meglio dell'iPhone, come appunto vi dicevo. L'iPhone si vede bene, però, anche la telecamera fa il suo gioco, bellissimo. E qua c'è tutta, ah, ho cambiato la posizione trucco, perché, cambiata per modo di dire, perché ho voluto metterla in modo diverso. Qui c'è tutto l'ambaradano di quello che mi serve, dallo spicchietto, quello che ho preso a sapone e profumi, a il portapennelli, che prima erano dei portaspezie, sale, pepe, caffè, vabbè, il caffè, il portacaffè è rimasto in cucina perché ci serve, per utilizzare appunto il caffè, per usare il caffè e bercelo, vabbè, ovvio, scontato, su via. Qua invece ci sono dei portapennelli, che prima ci dovevano essere appunto le spezie, un altro portapennelli, qui invece, dove, qua, vabbè, trovo lo specchio, qui da questa parte ci doveva essere, ecco qua, Questa appunto è un, come dire, una tazza che adesso dovrebbe essere, vedete, se giro capiretta di cosa sto parlando, Italia, sì, mondiali dell'Italia, 1934, 1938, 1982, 2006, Berlino, Madrid, Parigi, Roma, e vabbè, così via. Comunque, questa tazza, quando ho vinto i mondiali dell'Italia, e così via, con tutte le altre squadre, vabbè, non sto qua a dire cosa, tanto, io di calcio non me ne intendo, non ne parlerò mai più, perché, non mi interessa, anche se, vabbè, mi piace il calcio, ma, non so tirare a calcio, vabbè. Comunque, vi dicevo, qua dentro ci tengo tutti, vedete, aspettate che vi tiro fuori, tutti, allora, un piegaciglia, i miei trucchi, ovvero, rosetto, matite, rosetti, lucide labbra, eccetera. Non è che tengo molto, perché non ci sta molto in questa, in questa, in questa tazza. Qua il mio portapenelli sporchi ci tengo, che appunto l'ho utilizzato prima per truccarmi, e lì ci sono altri pennelli, lì c'è un, un, un bicchiere con dentro delle penne per scrivere, e lì ci sono dei bagni schiumi, che non si doveva più mettere, perché lì c'è la scorta ed è tutto pieno di scorte, non so più dove mettere le mie scorte, infatti non compro più un bel pezzo, perché, sinceramente, se compro più cose, mi seppellisco in camera, sinceramente, anche no, non mi interessa seppellirmi in camera, ho troppa roba, prima somatisco quella che ho, e poi ovviamente cerco di, vi giro, aspettate, allora, cerco di finire quella che ho, perché sennò, buonanotte, non si capisce più niente. E per quanto riguarda i video, i miei cap, prima o poi arriveranno, forse questo inverno, perché con l'estate fa un caldo boia, e sinceramente, di truccarmi, quasi sempre, non mi va. Mi trucco una volta ogni tanto, anche per fare i video, ma il resto, no, va bene? Niente, io adesso vi giro, stoppo, e continuo dopo. Allora, rieccomi, dunque, allora, cosa voglio dirvi ancora, se vi va, seguitemi su Instagram, perché ancora, non so se l'ho detto su Instagram, da qualche parte, con un mio amico, che non mi ricordo il nome, Salvatore Spider-Man, qualcosa del genere, sì, Salvatore Spider-Man, che ha tanti canali, ma va bene, non sto qui sempre a ritirare cosa. Mi pare che avessi detto che dovevo mettere un contenuto su TikTok, ma non so se utilizzarlo, perché non mi fa impazzire TikTok, dopo dire la verità, preferisco essere più attiva su Instagram, Facebook, e anche qua, perché no, come faccio lì, quasi tutti i giorni qua, su YouTube, perché viene più facile, più accessibile, e soprattutto, anche se non ho modo di interagire sempre con voi, perché, sì, attraverso i commenti, ma se facessi le dirette sarebbe meglio, ma le dirette dovrei dire più cose, e non è che ho sempre tante cose da dire, mi viene più facile dire tante cose quando faccio i video, anziché fare le dirette, sì, video e dirette, è vero, sono sempre video e le dirette, però devo stare attenta a quello che dico, non che anche nei video devo stare attenta, sì, quello è certo, però non posso tagliare le parti, è vero che potrei mettere delle live premier e tagliare i pezzi dove non mi va di far vedere ciò che devo far vedere, o quello che non voglio far vedere, però vediamo, forse questo video ve lo metterò come premier, vediamo, nel senso come live premier diretta, non lo so, ci devo pensare su sicuramente, e nulla, fa meraviglia che un ciclino non abbagliano, che strano che non sono i miei, come devo dire, non viene il termine specifico, e vabbè, quelli che abbagliano continuazione, boh, e fa che abbagliano continuazione, boh, ci sono strano, prevengono troppo ridere, io so che mi sento divertito al mondo, come ho parlato nel video delle recensioni, vabbè, ho cambiato il titolo oggi, ieri del video, perché mi sembrava un po' banale, un po' scontato, quindi non so se vi piace o meno il titolo di ieri, delle review che ho fatto ieri, però, almeno così, credo che abbia più senso, quello che ho voluto recensire ieri, che dovevo recensire ieri, e così ho cambiato sia il titolo, lasciando sempre l'inizio del titolo, però cambiando, mettendo i nomi di ciò che riguardava il video, però appunto, e niente, quindi questo video non è un video che è criccio, ma di ciò che riguarda la mia giornata, ovvero, oggi dovevo guardarmi fuori, ma non l'ho fatto, e vabbè, eeeh, cosa dire, chiacchiere tra biche, nulla, nulla di che, comunque, mi sono accorta che ogni volta che vado in giro per il palau, è tutta una cosa strana, guardano come degli alieni, quasi quasi, come se fosse un'aliena, come di che cacchio fa con questa fotocamera in mano, per fortuna che c'è lo specchio retrovisore, ovvero l'obiettivo fisso, che da una parte mi guardo nell'obiettivo, e dall'altra parte si capisce cosa sto facendo, che c'è, non so, vabbè, mi ho fatto vedere mille volte, eeeh, sarebbe questo, cioè, la finestrella, non so se si vede da qui, no? Vabbè, avete capito, no? Il, questo sarebbe il di dietro della telecamera, non credo che si sia capito molto, ma, spero di esservi spiegata, sarebbe il display della telecamera, ecco, perché se lo devo mettere come annotazione nel montaggio, ma, per fortuna, sono riuscita a spiegarmi, il display sarebbe del di dietro della fotocamera, così quando io sto registrando, che vado in giro, mi dicono, ma che cavolo combini, sto facendo un videoblog, e di cosa parli? Spiego dove sto andando, la mia giornata, queste robe qua, eeeh, tipo, questo ristorante si mangia bene, portano queste pietanze con l'altro, o qua da quella parte ci sono delle gioiellerie, di tale persona, così e cosà, insomma, non è che faccio un tour della mia, della mia paese, però, spiego che cosa sto combinando, dove sto guardando, e, insomma, i dettagli, io voglio fare video più dettagliati, a volte non riesco, ecco perché, i video, sempre che a volte, non hanno un benedetto senso, ecco perché, se un videoblog è fatto bene, spiegando bene il termine della, della tipologia, della categoria del videoblog, blogger, come cavolo si vuole chiamare, ha più senso, tipo, oggi vi porto a tal posto, vi racconto dove sto andando, cosa sto facendo, e soprattutto, che location sto andando, e soprattutto, che cosa si farà in questo posto, che cosa, che evento si parteciperà, o che ne so, cosa farà in quel posto, come ti è andato a finire l'evento, e, lì, lascia un po', come diceva Costantinoro, in suspense, tipo, oddio mio, cosa è successo, perché si è interrato tutto, e racconti la scena, la parte, ecco tutto, il resto, per quello che a volte vi dico, ragazze, per me non è facile fare videoblog, fatti bene, però ci provo, mi sforzo, va bene, non sempre riesco, ma, almeno vi divertite un po', guardate un po', il bel posto che è la Sardegna, tipo il mare, il porticciolo dove io vado, tante volte, che ne so, le belle bacca vere, e così via, nulla, ragazzi, questo era quanto, per oggi è tutto, perché altrimenti diventa un video, non so quanto lungo, non so quanto è lungo, sarà un bel video da evitare, penso, per me, no, sì, e niente, non so se farvi vedere i cani, ma non penso che vi siano, no, non è il caso, probabilmente non ci sono neanche i cani, o se ne sono addomentati, ma non vi interessa neanche, e vabbè, già, nulla, penso che a breve vi farò vedere, anche, tutto l'ambrata che ho sistemato lì dentro, ma non subito, vi farò una seconda parte, ok, aspettate, vi faccio vedere un secondo, allora, vi sgancio dal mio, ecco qua, ci siete? Sì, spero che non siate andati via, allora, qua c'è, vabbè, la busta dei prodotti che finisco ogni mese, o quasi, vabbè, avete intravisto qualcosa, chissene, allora, lì c'è un asciugamano per lasciare i pennelli quando li lavo, e devo, appunto, asciugarli, un pacco di fazzoletti della Foxy, e poi, un pacco di, vabbè, una busta, con dentro tutti i miei prodotti, sia per la ceretta, post ceretta, cremine, cremine, cremette e quant'altro, poi qui c'è un pacco di, no, che è un pacco, una valigetta, aspettate che ve la faccio vedere bene, una valigetta con dentro i trucchi, che sono pennelli, come dire, pennelli e rossetti, smalti, applicatori, per mettere, come dire, aspettate che vi giro, perché se no, non ho capito, chi sta parlando, penso di sì, vi dicevo, i pennelli, applicatori, vabbè, sono pennelli che manco uso, perché sono pennelli che sono applicatori degli anni passati, ma, se capito, penso, superatevi, apro la valigia, ma no, se no, diventa un video troppo lungo, comunque, avete capito, che pennelli parlo, sono di quei pennelli applicatori, che si utilizzano, sì, che si utilizzano, così, tanto per, e vi dicevo, sono, ci sono dentro, rossetti, smalti, ombretti, e altre cose varie, comunque nulla, niente, ragazze, adesso io vi appoggio, perché, tanto il video sta per terminare, ho altre, cerette, creme, bagno schiuma, detergenti, insomma, tutta la scorta di cose, che mi servono quando li termino, non le compro altre, perché se no, appunto, già vi stavo dicendo che, mi seppellisco in casa, non è il caso, adesso vi attacco, aspettate un secondo, se sentite l'umore, perché vi sto inserendo nel cavalletto, ce l'ho fatta? Sì, ok, ce l'ho fatta, allora, vi tengo qua, così, sì, ci siete? Sì, perfetto, metto un po' dritta, ok, allora, ragazze, io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, e noi ci si vede al prossimo video, un bacio, mettete un bel like, commentino, iscrivetevi, perché è gratuito, e attivate la campanella, seguitevi su Instagram, youtubermelania-8, ripeto, youtubermelania-8, ciao, a presto, un bacione, ciao, ciao.